Ciao a tutti ragazzi io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Finalmente come vedete abbiamo cambiato un pochino di cose Abbiamo la nuova facecam dell'Elgato che tra l'altro ci faremo un video prossimamente per presentarvela Stiamo usando un microfono toner qui da tavolino e non ho più il microfonino che avevo qui attaccato addosso E speriamo che nel complessivo poi bisognerà trovare anche settaggi, le luci giuste e tutto quanto Riusciremo a fare delle riprese sicuramente di più alta qualità rispetto a quelle precedenti Oggi vi presento Ticket to Ride della Days of Wonder in questa versione italiana a cura di Asmod Italia E Ticket to Ride Treno Fantasma è un'introduzione per far imparare ed apprezzare a tutti quanti ma soprattutto ai più piccoli Un gioco che è diventato famosissimo e un gioco che secondo me trovate in tutte quante le case E soprattutto dagli amanti dei board game perché è un gioco veloce, immediato e che una partita tira sempre l'arta Diciamo così non si disdegna mai In questa sua edizione per giocatori da 6 anni in su Quindi ci potete far giocare veramente anche il cuginetto e il figlio o ragazzini veramente piccoli e bambini Ve ne parlo a breve dopo la sigla Ticket to Ride Treno Fantasma Come detto poc'anzi in questa edizione italiana a cura di Asmod Italia È un gioco velocissimo Che vede le meccaniche del gioco di base Ticket to Ride molto semplificate Che già di per sé di suo sono veramente facilissime E il regolamento come vedete poi dal video è praticamente una pagina front e retro Non c'è nemmeno un manualetto né niente È proprio il classico regolamento vecchio che mi rimanda un po' alla giochi della Milton Bradley Dove era scritto sulla scatola o veramente era un foglio lato A e lato B Abbiamo la mappa di gioco tutta quanta molto fanciullesca a tema Halloween Questa città horror tra virgolette ma molto molto semplicistico e simpatico appunto anche per i più giovani Con delle location che rimandano un po' a posti anche alla Tim Burton Cose del genere Nightmare Before Christmas E noi dovremmo semplicemente La regola di gioco ci dice che nel nostro turno Dobbiamo o andare a giocare delle carte O pescare delle carte Queste carte che andiamo a pescare sono le carte Vagoni Di un certo colore O la carta Locomotiva che di qualsiasi colore essa sia farà sempre da Jolly Abbiamo la mappa dove magari sulla mappa Andremo a vedere varie tratte ferroviarie che noi dovremo andare a conquistare A seconda degli obiettivi che avremo su una terza carta Perché all'inizio del gioco ciascun giocatore pesca due obiettivi Che magari le dicono porta dal punto A al punto D una ferrovia Te lo sai, gli altri giocatori non lo sanno E te dovrai riuscire a completare questa ferrovia Senza fartela bloccare ovviamente da altri giocatori Perché ciascuno avrà i suoi vagoni colorati Che dovrà andare a disporre appunto per fare questa tratta ferroviaria E sbloccando l'obiettivo Quindi magari dal punto A come detto al punto B o al punto C C'è questa tratta ferroviaria Noi andiamo a pescare carte O giochiamo carte che abbiamo in mano Le potete anche giocare tutte, quelle che avete E potete tenerne quante ne volete in mano Magari la tratta dal punto A al punto B è arancione E nella mia missione mi serve Quindi ho bisogno di avere che ne so Quattro carte arancione Perché ogni carta per ogni piccola tratta Sono quattro tratte Quindi a me serviranno quattro carte arancioni Vado a giocare queste quattro carte arancione Le metto in campo Faccio vedere agli altri giocatori che appunto ho completato la tratta E ci vado a mettere tutti quanti i vagoncini Con la locomotiva del treno Per appunto far vedere che io ho preso quella tratta Giro la mia carta obiettivo Faccio vedere che l'obiettivo l'ho appena conquistato L'ho appena finito E ho guadagnato quell'obiettivo Ovviamente a fine partita la partita dura Tot round O quando il giocatore arriva Il primo giocatore che arriva a completare il sesto obiettivo E quello che vince Perché in Ticket to Ride non si va a punti Vince il giocatore che appunto per primo arriva a completare 6 obiettivi Quindi alla sesta carta obiettivo completata Il gioco è finito E gli altri giocatori potrebbero andare a minare nel mezzo Cercando di bloccargliele Delle tratte O magari cercando un po' di Mettergli i bastoni tra le ruote E quindi il gioco Fondamentalmente è veramente semplicissimo Ticket to Ride Treno Fantasma Asmo d'Italia In questa versione per i più piccoli È il classico Ticket to Ride In versione semplificata Però è un po' un punto di approdo Un punto di inizio È una prefazione Secondo me Un'introduzione perfetta Ticket to Ride Che è un gioco Il figlio Il figlio e quant'altro Il fratellino è veramente molto più interessante E forse anche Consentitemelo Azeccato Se lo volete ordinare Primo link in descrizione Come in tutti i video In sovraimpressione Dalla giocolibreria Semola Nostro negozio sponsor Non soltanto al miglior prezzo sul mercato Ma ricordatevi anche Di usare il codice discount Corridan 7 Per avere uno sconto del 7% E per ogni spesa Per tutte le spese superiore A 79 euro Avete il corriere gratuito In tutta Europa Quindi anche fuori dall'Italia Isole comprese E se sul sito lo trovate Puntino rosso è finito Oppure proprio Ticket to Ride Treno Fantasma Digitate E non è presente in lista Mandate una mail Al supporto Della giocolibreria Semola E fate presente a Corrada Al proprietario Che arrivate dal mio canale Dal canale di Corridan Lui farà il possibile Per trovarvelo Non soltanto al mio prezzo Sul mercato Ma anche nel minor tempo Possibile E' un gioco nuovo Si trova Però anche se questo gioco O altri presentati Non li trovate Scrivete direttamente Al supporto Fatemi sapere Cosa ne pensate Ed è un gioco Veramente interessante Per tutti Ma per i bambini Ancora migliore Ciao ragazzi Alla prossima Se questo video ti è piaciuto Lascia un like E clicca sulla campanella Per essere sempre aggiornato Ricevere notifiche E non perderti nemmeno Un video in uscita Primo link in descrizione Primi link che trovate Ricordatevi sempre Di iscrivervi anche Al canale Facebook Al canale mio Di live Twitch Alla mia pagina Instagram E alla mia pagina TikTok Che sono sempre aggiornate E su Twitch Mano a mano Troverete la programmazione Aggiornata Con tutte quante Le live del giorno Quindi guardatela sempre Perché ci sarà sempre La programmazione Aggiornata Mi raccomando Iscrivetevi Soprattutto ai social Perché sono sempre aggiornati E se devo comunicare qualcosa Anche per il canale YouTube Lo troverete sempre lì Ciao alla prossima Ciao